Propongo un buono casa di 700 euro per ogni famiglia sfrattata in difficoltà, in questo modo potremmo aiutare tutti coloro che in questo momento vivono nei residence e probabilmente un numero doppio, se poi a questo aggiungiamo 20-30 milioni di euro tagliati dalle consulenze inutili, potremo anche aiutare i tanti giovani che in questo momento hanno difficoltà a trovare una casa.